Chiusa in casa, sorvegliata e maltrattata, sono stati anni da incubo quelli vissuti da un'anziana di 78 anni, residente a Marotta, che anziché essere aiutata dai due badanti, marito e moglie, ha subito continue aggressioni. La coppia, che avrebbe dovuto prendersi cura della signora, ha fatto in modo che la donna non avesse contatti con parenti e conoscenti. L'obiettivo era quello di prelevarle la pensione grazie ad una delega ricevuta dall'uomo, un sessantenne, che poteva compiere anche altri atti ai danni del patrimonio dell'anziana. In totale, negli ultimi dieci anni, le avrebbero sottratto mezzo milione di euro. Poi, finalmente, grazie alla segnalazione di un privato cittadino arrivata ai carabinieri di Marotta, i militari hanno dato il via alle indagini. In particolare, i primi testimoni hanno raccontato di presunti abusi subiti dalla vittima, che da tempo sarebbe stata segregata e controllata mediante una videocamera. A peggiorare il quadro, anche le aggressioni sia fisiche che morali, per evitare chi avesse dei rapporti con i familiari. Al termine dell'attività d'indagine, i badanti marottesi sono stati denunciati e i carabinieri hanno dato esecuzione alla misura cautelare dell'allontanamento e di vieto di avvicinamento alla donna, ad una distanza inferiore ai 200 metri. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, su richiesta della Procura della Repubblica. Dovranno rispondere dei reati di circonvenzione di incapace in concorso e di maltrattamenti aggravati.